Hello, hello, hello YouTube community, Elena Tionelti, Life Coach, ben trovati. È un brevissimo mini video, veramente giro al volo per, semplicemente per condividere con voi una delle possibilità per chi ama utilizzare le affermazioni, e vi ricordo che i pensieri sono affermazioni, ma per creare un entraining, un encoding per un risultato specifico, per la vostra persona specifica, una delle affermazioni che assolutamente potete utilizzare lungo le linee di along the line rispetto al creare un rapporto duraturo continuativo impegnato, dove due persone stanno insieme, sono esclusive, ok? Intanto una è finalmente io e la mia persona stiamo insieme. semplice, easy, veramente più easy non si può, è potente, finalmente io e la mia persona stiamo insieme ora, finalmente io e il mio uomo siamo insieme ora. insieme all'altra affermazione più classica, vivo una relazione appagante e impegnata con l'uomo che amo, l'altra ancora, convivo felicemente con la persona che amo, finalmente convivo felicemente con l'uomo che amo, finalmente vivo felicemente con l'uomo che amo, convivo felicemente con l'uomo che amo. Se iniziate a entrare in un rampage di questo tipo diventa naturale e automatico, diventa proprio un'ipnosi, vi aggancia completamente, convivo felicemente con l'uomo che amo, vedete come la dico io? È proprio come se fosse un, io la intendo proprio come una recita, come una battuta di uno scritto in vero e proprio. Convivo felicemente con l'uomo che amo, finalmente. Vi sto raccontando dei fatti. Convivo felicemente con l'uomo che amo, finalmente, e sono veramente, veramente grata. Vivo la relazione dei miei sogni con la persona che adoro. Vivo finalmente una relazione impegnata, appagante, corrisposta, ufficiale, con la persona che ho scelto. Sapete? Vivo finalmente una relazione appagante, corrisposta, impegnata con la persona che ho scelto. Lo recitate a voi stessi. Potete anche, se volete, mettervi davanti allo specchio, però voglio dire, avete la vostra pratica. Magari avete quei due minuti, cinque minuti al giorno, una volta, tre volte al giorno, in cui, che ne so, vi sedete un attimo sul divano o dove è il vostro posto preferito, ovunque, sotto la doccia, quello che vi si confà di più, che in quel momento potete usare. La mia pratica è quella di avere sempre, sì, in varie zone della casa, perché ovviamente studio lavoro tutto insieme, quindi in un senso sono facilitata. Ho però dei posti specifici ad ancoraggio spaziale dove mi metto proprio a recitare, ok? Convivo felicemente con l'uomo che amo. 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 Convivi felicemente con l'uomo che ami. Convivi felicemente con l'uomo che ami. Ok? È un comando, è un ordine, è un affermare un fatto, con convinzione. E nevi stesso, dice, an inner conviction is stronger than every other thought. Avere una convinzione interiore è un qualcosa di più forte di qualsiasi altro pensiero fluttuante. È il tuo stato dominante. Se continui a imprimerti, convivo felicemente con la persona che amo. Finalmente. Yes what? Comincerei a ottenere le tue piccole goccioline che poi portano al temporale completo, ok? Alla fruizione completa della tua manifestazione. Sei costante e continua. Se durante il giorno ti capita di svirgolare, non importa. Sei proprio relentless. Sei continui a insistere, persistere, perseverare. Convivo felicemente con l'uomo che amo. Convivo felicemente con l'uomo che amo. Come se dovessi parlare a qualcuno. E gli stai dicendo per la milionesima volta, perché magari è un po' sordo. Ehi, convivo felicemente con l'uomo che amo. È così già, ok? L'unica persona che devi convincere sei tu. Perché tu decidi l'esito degli eventi. È una decisione che continui a prendere. L'ho spiegato nel video precedente. Un atto immaginale, il desiderio impresso, originale. E continui a ripetere. Proteggi la realizzazione e continui a mandare nella direzione voluta la tua testa. Tutto il tuo corpo. Perché quando ripetiamo una cosa del genere, sentendola in questo modo, dichiarandola, recitandola, decretandola, o dillo come ti pare, senti che è diverso. Convivo felicemente con l'uomo che amo. Convivo felicemente con l'uomo che amo. Convivo felicemente con l'uomo che amo ora. Finalmente. È fatto. È già così. Io decido l'esito degli eventi. Io decido cosa accade, non là fuori. Hai reagito? Who fucking cares? Che diamine se ne frega, voglio dire. Non importa, ok? Vi hanno insegnato, no? Non devi reagire alla 3D. Non è vero. Non devi fare un check con la 3D. Non è vero. Fai le cose che normalmente e naturalmente fai. Ma sii inamovibile. In quello che vuoi. Devi mantenere gli occhi sulla palla. E non distrarti da tutte le altre cose. Devi mantenere il tuo focus incollato al risultato finale. Se il tuo risultato finale è convivere con la persona che ami, affermerai che è così. Sì, se il tuo risultato finale è avere questa relazione impegnata, a prescindere dal fatto se vivete o no insieme, you know what? Vivo una relazione appagante e corrisposta con la persona che amo. Io e la mia persona stiamo insieme. Finalmente. O io e la mia persona stiamo fisicamente insieme. Finalmente. Usa la variante che si si confà di più, ma usala. Usala. Metti insieme tutte le tecniche, tutti i vari modi per fare atti immaginali. Inventatene di tuoi. Che vuoi. But just do it. Just do it. And do it. Do it. Do it again. Till it's perfectly externalized. Fino a che è perfettamente espresso nella 3D. Sta roba funziona. Non ti dico le quantità di pensieri opposti e anche piuttosto schifosi che io ho avuto in questi tre anni. Bastava soltanto recitare mezzo minuto di affermazioni per farle accadere. E' miracoloso. E' una cosa pazzesca. So. Ricorda. La manifestazione è una decisione. Quando tu decidi che accade qualcosa, guarda un po', le cose vanno sempre come le decidi. Facci caso. Testalo. Testa il tuo modo. Se vieni in sessione con me e lavoriamo in un percorso più ampio che una sola sessione, ovviamente, perché c'è comunque un lavoro da fare, andiamo a fare una cosa che non ho visto fare a nessuno. Andiamo a verificare qual è il tuo codice personale di manifestazione. Chiamiamolo così. Cioè il modo in cui tu manifesti, hai sempre manifestato nella tua vita. Andiamo a vedere su cosa, quali sono i tuoi canali comunicativi principali. Andiamo a fare un bel po' di cose. E andiamo ovviamente a sviscerare esattamente qual è la tua realtà desiderata. Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere. Perché se continuiamo a manifestare telefonate, messaggi, anche incontri anche molto belli, che cosa vuoi, una serie di incontri, una relazione impegnata, una convivenza, un matrimonio, dei figli, che cosa vuoi e poi lo affermi. È semplicemente questo. Questo era un video velocissimo, giusto per fare un punto con un'affermazione estremamente facile da usare. Te la ripeti lì, tutte le volte che vuoi. Non è necessario ripetere tutto il giorno, tutti i giorni, come nella 10.000 challenge. Ma naturalmente questo è quello che funziona per me. Tu fai sempre quello che funziona per te. Sempre. Perché tu sei l'autorità sopra qualsiasi cosa che chiunque ti dica, compresa la sottoscritta ovviamente, o qualsiasi altro personaggio, eccetera, eccetera. Ti incoraggio a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, metti like al video se ti è piaciuto, fammi sapere tu quali sono le tue affermazioni per manifestare, quello che vuoi manifestare con la tua PS o qualsiasi cosa che stai manifestando qui. Mi fa piacere leggerti, ti saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.